Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Volevo oggi presentarvi questo prodotto, l'Active Drops 08 della SHG, un prodotto veramente rivoluzionario. Non è altro che un attivatore batterico, che può essere utilizzato in vasca per attivare il ceppo batterico, oppure per ripristinare alcuni equilibri batterici all'interno della vasca. Non mi dilungo a livello di filtrazione, batteri, come si formano, come non si formano, quello che sia, appunto perché altrimenti il video diventerebbe interminabile. Quello che voglio dire e che voglio farvi intendere, questo è un bellissimo prodotto formato appunto da dei flaconcini. Ogni flaconcino si può utilizzare in 100 litri di capienza della vasca. è formato da dei microorganismi attivi ed enzimi naturali, che sono molto indicati soprattutto per dolce e acqua fredda. È una selezione di ceppi batterici che praticamente entrano in azione appunto nel nostro sistema per cercare di eliminare quello che possono essere nitriti, nitrati, e nello stesso tempo appunto cercare di ripristinare l'equilibrio batterico di una vasca. Diciamo che questo è un flaconcino molto semplice da utilizzare, tant'è vero che per il suo utilizzo basta prendere il flaconcino, l'Active Drops, come vedete ha anche una bellissima forma, avvitare il tappo fino in fondo, vedete il tappo comincia a schiacciarsi, finché questo tappo si spaccherà, come vedete, perché all'interno della boccettina è presente una doppia camera dove praticamente sono posizionati i batteri. È una polverina con dei batteri dormienti e quindi bisogna poi agitare energicamente il flaconcino appunto per fare, diciamo, sciogliere bene quella polverina che poi non sono altro che i batteri che in questo caso con il liquido contenuto nel flaconcino una volta che si spacca questa piccola boccettina presente all'interno del tappo vanno a finire nel liquido che non entrano in merito alla composizione del prodotto appunto perché non sono un vero tecnico di questo discorso e quindi, diciamo, si rende possibile e attivo la somministrazione direttamente in vasca. Ne consiglio per la maturazione un flaconcino di questi ogni 100 litri oppure appunto quando ci sono degli scompensi batterici che possa essere un cambio d'acqua che possa essere nitriti o composti azotati alti di ammoni, ammoniaca, insomma, tutto quello che, diciamo, in una vasca possa essere di... non proprio, diciamo, perfetto e niente, ragazzi, ve lo consiglio perché è un prodotto veramente unico e io ne ho qualcuno disponibile vediamo più in là se riesco a darlo a qualcuno che effettivamente ne ha di bisogno in modo da farlo provare e basta tutto qua io, siccome stamattina lo sto dosando nella mia vasca e quindi ne ho approfittato appunto per fare questo video e farvi vedere come fare bene, ragazzi, io spero che sono stato molto esaustivo anche perché non sono voluto entrare in merito alla composizione dei batteri alla composizione della boccetta a tutto quello che sia appunto perché il mio intento era quello di far capire come dosare e come rendere attivi i batteri per poterli somministrare in vasca va bene, ragazzi, continuate a seguirci perché grosse novità sono in arrivo ringrazio la SHG per avermi, diciamo, dato la possibilità di conoscere questo prodotto che, ripeto, è veramente fantastico e basta, alla prossima va bene, ragazzi, buona giornata ciao a tutti, ciao, ciao